Mув Re SIMILLE Da dieci anni quindi circa abbiamo avviato questa pratica Nelle Dolomiti, che sapete, dal 2009 sono patrimonio dell'umanità, bene unesco. Quindi nel 2009 l'uomo ha stabilito il valore e lo status di questo bene per l'eccezionale valore universale, per la qualità estetica e paesaggistica. Bene, su questo lavoriamo noi, sulla definizione del concetto di patrimonio e di paesaggio. Le Dolomiti sono patrimonio, abbiamo definito con questa parola il loro valore, però noi viviamo nelle Dolomiti. E alle mie spalle vedete andare le immagini dei siti di cui ci occupiamo da dieci anni a questa parte. Sono siti molto importanti nella storia e nella costruzione dell'identità dei territori e dei paesaggi. I paesaggi, diciamo, non preesistono all'uomo. L'uomo deve farli, deve contribuire a cogenerarli. Questi stabilimenti che vedete sono ex fabbriche, stabilimenti produttivi o ex scuole, ex colonie alpine. Tutti, diciamo, siti introdotti da questa particella dismissiva, ex, perché non sono più. Sono stati vettori, trattori del territorio. Al loro interno si è lavorato, si è costruito reddito, economia, socialità, cultura. E poi si sono fermati. Ora voi li vedete in una, diciamo, terza fase. La prima fase è stata quella della loro edificazione da parte dell'uomo, che li ha costruiti in seno al paesaggio e al flusso della storia. La seconda fase è quella dismissiva. Fine della loro vita produttiva e propulsiva all'interno del paesaggio per il territorio. La terza fase è questa, perché vi dicevo, da dieci anni affrontiamo questi nodi irrisolti, critici e problematici del paesaggio, ovvero questi grandi siti che hanno posseduto un valore molto rilevante e poi l'hanno perso. Hanno perso la propria primigenia identità. La terza fase è quella del risveglio. Bisogna capire se siamo in grado di ripensarne a un uso funzionale, se possono tornare ad essere utili al territorio oppure se non esistono più, perché sono vestigia. Sappiamo tutto di loro nel passato, sappiamo poco di loro nel presente, perché tendenzialmente non si è più riusciti ad agirli e quindi non possiamo immaginare il loro futuro. Cosa sono quindi dei cimiteri che noi contempliamo guardando al passato, retroversi, oppure sono effettivamente patrimonio, cioè bene, cioè potenziale rigenerabile? Bene, questa è stata la nostra scommessa. A due anni dal raggiungimento di quello status abbiamo iniziato a indagare questi siti, che sono molti. Le Dolomiti sono sicuramente patrimonio, ma sono anche un patrimonio di stereotipi. Per certi aspetti, di cliché, di idee piuttosto banali, attraverso le quali si vede una montagna che o non c'è più, era quella del nonno con le braghe alla zuava, oppure è sempre una montagna che fatica molto a guardare avanti, a traguardare nuovi orizzonti, perché è già data. Ma stiamo dicendo che i paesaggi vanno generati dall'uomo o rigenerati. Non sono dati per sempre. Alle volte sono dati solo per un periodo. Bene, nelle prime fabbriche, nelle prime immagini che avete visto, che abbiamo affrontato nei primi due anni, è accaduto questo. Giacevano, dopo aver funzionato per il territorio, e poi qualcuno ha provato a muoverle. Sono arrivati degli enti, tendenzialmente pubblici o anche privati. E cosa hanno fatto? Un restauro. E cos'è successo dopo il restauro? Che sono rimasti fermi come prima del restauro. Cosa vuol dire questo? Che sono arrivate le risorse economiche, ma non sono arrivate le risorse vere. In questo modo il patrimonio è stato tradito, perché era deficitario il corredo di risorsa che si tentava di applicare per risvegliare il bene. E cosa mancava? Un'idea. Perché se ti limiti a restaurare un bene, ma non hai l'idea di cosa ne vorrai fare, lo tradirai e farai un male. Che tra l'altro è costato molto. Bene, con un progetto culturale, ma con una logica funzionale, perché il test è anche quello di verificare se la cultura sia un apparato di dascalico o, diciamo, esornativo, oppure se possa essere un attivatore reale, concreto e un driver, una parte della coprogettazione dei paesaggi e dei territori, abbiamo affrontato questi siti. Avete capito? Erano finiti, ma non sfiniti a nostro giudizio. Sicuramente c'era una grande potenzialità in questi siti. C'è. Cos'è questa potenzialità? Considerate che, come state vedendo, sono straordinari per valori estetici propri, per il loro contesto, poi sicuramente sono fermi e forse la cosa che importa di più è che devi selezionare quelli giusti. Non tutti i siti sono suscettibili di essere rigenerati e di tornare utili. Devono avere una consistenza logistica, per usare questa parola pratica, e quindi ci deve essere un'idea funzionale nell'approccio e nel tentativo di rigenerarli. Cioè, alcuni siti è meglio non affrontarli. Diciamo che bisogna soppesarli correttamente. Altri, se valgono davvero molto, impotenza e niente nella realtà, è opportuno e necessario affrontarli. È una questione di responsabilità. E poi anche di sostenibilità, vedremo. Bene, i siti di cui ci occupiamo sono solo alcuni. Non tutti. Non è l'archeologia industriale. È una selezione ristretta, ma ampia. Abbiamo lavorato su una ventina di siti dal 2011 ad oggi, di siti appunto che valgono sicuramente moltissimo, ma nulla nella realtà. Quindi c'è una ampia misura da colmare. Perché se un sito, diciamo, tutti che vale molto, vale 100. Qui siamo nell'ex villaggio Eni di Borca di Cadore, che fece il signore Enrico Mattei negli anni 50, con l'architetto Edoardo Gelner, anche insieme a Carlo Scarpa in una parte. Se diciamo che vale molto, ma non vale niente nella realtà, vuol dire che noi non riusciamo mai a risvegliare il potenziale di questo sito. E a cosa serve il suo potenziale? Al legittimo proprietario? No. Tutti i siti hanno un legittimo proprietario, pubblico o privato. Ma come state vedendo, ora state vedendo il Forte di Montericco a Pieve di Cadore, poi rivedrete il Vaiont. I siti che scegliamo sono talmente forti, formidabili ed eccezionali da essere o esemplificativi di temi più vasti di loro stesso, o veramente, diciamo, bisogna essere ciechi per non vederne il potenziale. Allora, il loro valore di patrimonio è di tutti, non solo dell'ente che ne possiede la fisicità. E su questo lavoriamo noi, con un progetto di responsabilità e riuso, lavoriamo a riprendere il valore patrimoniale in senso culturale di questo bene per tutti. Cosa possono tornare ad essere questi siti? Dipende. Nei primi casi delle fabbriche che avete visto nelle prime immagini sono tornati a essere fabbriche. Cosa abbiamo fatto? Li abbiamo approcciati, erano falliti, abbiamo costruito una serie di relazioni. Abbiamo quasi 500 partner. Chi sono questi partner? Sono partner territoriali ed extraterritoriali, pubblici e privati, imprese e aziende, partner scientifici o della ricerca. In sostanza si compie un grande momento di attivazione di reti territoriali ed extraterritoriali e si cerca di far di nuovo vedere la pilla e il potenziale dei siti. È un po' come avere un gran cesto di frutta eccezionale in cucina, ma la luce è spenta. Nessuno mangia la frutta che va male. È sufficiente accendere la luce. Non è facile accendere la luce in un sito che è fermo da anni o decenni dove, diciamo, la società particolare in quel contesto peculiare ha perso speranza. Tutti la perderebbero. Prima funzionava, poi non ha funzionato più, poi l'abbiamo restaurato e ancora non è andato. È un maledetto inghiottitoio? No, è una risorsa che bisogna rimettere in rete. Come fai a metterla in rete se non accendendo le reti? Prima si parlava di dopamina, ricordate, stamattina c'è un saggio del 74, mi sembra, di un neuropsichiatra, Oliver Sacks, si intitola Awakening, risvegli, si parla di malattia, letargia e di cura. Io sono un curatore, Romiti Contemporaneo è un progetto di cura e di curatela del paesaggio e del patrimonio. Serve la dopamina culturale, serve un'iniezione, serve una neurotrasmissione, serve insufflare la fiducia nei territori che l'hanno persa per riaccendere loro stessi. Questi siti appartengono a questo territorio che li contiene, ma poi sono talmente importanti, vedete il Vaionta, che esuberano ampiamente la propria collocazione geografica in seno al territorio. Il punto è che sono esclusi dal flusso della storia. Sapete cosa è successo nel Vaionta il 9 ottobre del 63? Non sono morte duemila persone, sono morti un po' tutti gli uomini della Terra. Quindi quel luogo è lì e non è lì, è di tutti gli uomini della Terra. È un luogo emblematico, è al tempo stesso un luogo particolare, collocato in un punto dello spazio-tempo, è un luogo universale. Per cui riaccendere la scuola, la vecchia scuola elementare chiusa dal Vaionta, e farne un centro per la cultura contemporanea della montagna e del paesaggio, vuol dire affrontare un sito spento, terribilmente spento, perché il Vaionta, per certi aspetti, è la terra dei morti viventi. è un luogo dove c'è una diga che richiama ogni anno migliaia e migliaia e migliaia di persone che tendenzialmente vedono una lapide, un muro del pianto. Affrontare questo paesaggio, non volendo ammettere il fatto che esso possa coincidere a quel paesaggio della tragedia, questo vuol dire tradire gli uomini, i paesaggi sono per i vivi che li devono costruire. C'è una definizione di Edoardo Gelner, il realizzatore dell'ex villaggio Eni, cioè del programma sociale di welfare di Enrico Mattei e di molte altre cose. Gelner dice che il paesaggio è la sommatoria di ambiente naturale e azione dell'uomo. Buona azione, buon paesaggio. Cattiva azione, pessimo paesaggio. Non un luogo per l'uomo. Dunque, il Vaionta non può essere un paesaggio dimenticato, retroverso, ostaggio di una tragedia che c'è stata e non c'è più, o paralizzato nella memoria, che può essere anche un patogeno, perché non consente, se non l'elabori, di prefigurare paesaggio. Altro paesaggio, paesaggio proiettivo. Nel Vaionta è necessaria una situazione proiettiva, per cui, se venite a vedere cos'è il nuovo spazio di Casso, è un presidio culturale che si oppone alla predatoria egemonia di una tragedia che non può essere l'identità dei vivi di oggi. Non c'è dimenticarsi, non c'è assenza di memoria. C'è una visione che vuole restituire questi siti agli uomini, che sono coloro che li hanno fatti e poi li hanno persi. Bene, tutto ciò si fa, come vi sto dicendo, in ogni sito si realizza una residenza, vengono artisti, vengono anche architetti, designer, paesaggisti, economisti della cultura, scienziati, filosofi. Viene Marco Gé, che abbiamo portato nel Vaionta, come a Borca di Cadore, a riflettere su questi luoghi, altro che non luoghi, ma siamo in grado di riproiettarli nel presente in modo utile o no? Sì, credo, nel momento in cui riusciamo non a suggestionare una platea, ma a convincere il territorio che quella è roba sua, che può tornare ad essere utile. nel Vaionta bisogna vivere. L'ex villaggio Eni di Borca di Cadore può servire a molte cose. Non serve a se stesso, questi siti non bastano loro stessi, non c'entra quanto belli o importanti sono stati. Non bastano, serve un'azione vigorosa dell'uomo. È deliberata l'azione, a noi nessuno ci ha obbligati. Io lavoro con una trentina di ragazzi, giovani, del territorio, che vogliono fare qualcosa per il territorio. e quindi affrontiamo i siti. Attraverso le strategie delle reti attiviamo il territorio, di cui siamo il reattore, diciamo. Convinciamo il territorio a riprendere fiducia in un'impresa del rilancio. Per questo abbiamo 500 partner, dal territorio e da fuori il territorio. Ce ne sono molti di internazionali, molti di nazionali, molti di locali, grandi e piccoli, tutti indispensabili, anche perché noi non abbiamo i soldi. Vi ricordate prima? Erano venuti i soldi senza le idee. Non era patrimonio, non era risorsa. Poi arriviamo noi senza i soldi, ma con un patrimonio di idee e i siti ripartono. I primi siti sono ripartiti. Sono entrate attività commerciali e produttive perché hanno riscoperto la logistica intelligente di quei siti. Non erano affatto morti. Alcuni siti sono più importanti di altri perché pesano di più nel volume fisico, storico, nel valore estetico e così via, come l'ex villaggio Eni, dove torniamo fra poco. Lì si attivano piattaforme più strutturali, come nel Vaillont. Non vai a riaprire una fabbrica nel Vaillont. Abbiamo dovuto vivere due anni nel Vaillont e farci capire dagli abitanti. Potevamo essere gli ultimi stupidi o cannibali. Invece no. Per quello che vi ho detto prima, ragioniamo in una logica di funzionalità pubblica, non privata. Non ci sono i gotisti, dei curatori o degli artisti. Tutti concorrono e fanno un pezzo del programma di rilancio. E questo non tradisce l'arte, che è sempre se stessa. Solo che l'artista è un intelligente, sensibile, ingegnoso, è un enzima. Attiva processi, non si accontenta di definizioni né di sentenze, per cui per lui il sito non è morto. Contribuisce a rigenerarlo. I siti diventano cantieri della produzione artistica e culturale, dove si innescano le reti anche perché portiamo leggenti molto diverse tra loro. Ci sono gli scienziati della foresta. Sapete cos'è Tempestavaia? 14 milioni di alberi portati giù dal vento a ottobre del 2018. Se venite nei siti che state vedendo, in particolare a Casso, dal forte di Montericco, trovate delle mostre collettive d'arte contemporanea con 30 artisti che lavorano su temi di vaia, insieme ai scienziati del clima, della foresta, biologi, chimici. Quindi l'arte non fa una caprioletta, non è l'apparato esornativo, è parte del meccanismo della strategia di rigenerazione. I siti ripartono dunque e li mettiamo anche nelle piattaforme a disposizione. Tornando a Borca, sapete che da un po' di tempo ci siamo guadagnati le Olimpiadi del 2026, Milano-Cortina. Si dice che hanno da essere sostenibili. Sono sostenibili se non costruisci dell'architettura nuova e ti sai responsabilmente rendere conto di cosa c'è già a disposizione. La Giovanni di Borca sono 100 mila metri quadri, costruiti molto bene perché c'erano Mattei e Gelner. Non c'erano limiti di spesa, ma soprattutto di ingegno. quello è uno spazio su cui dobbiamo spendere considerazioni serie. Lo riprendiamo o no? È fatto talmente bene che non è un rudere. È vicino a Cortina. Non è una logica antagonista Borca o Cortina. Gli Olimpiadi, d'altro canto, non sono le gare di sci del 2026, sono un'opportunità di sviluppo per il territorio da qui a lì. E quindi occorre ancora prendere il patrimonio e rinsavirlo e riflorarlo. E anche se diciamo sostenibilità e basso consumo di suolo, veder quel che c'è prima di fare del nuovo. È semplice. Diceva una cosa il signor Mattei, diceva che l'ingegno che accomuna gli scienziati e gli artisti è la capacità di vedere cose dove non le vedono gli altri. Occorre essere orbi per non vedere il potenziale di questi siti, credo io. Quindi non basta vederle. In effetti Mattei non si limitava a vedere, faceva molto. Allora, se questi siti valgono davvero molto in potenza, come diciamo, vanno visti e poi vanno fatti. Dobbiamo costruire i paesaggi della contemporaneità. Lo sguardo del contemporaneo è questo, non è nostalgico, non è retroverso, vi dicevo. Cerca di proiettare i propri potenziali avanti, non in memore del dietro, avanti. Questa è una cosa che va considerata. Dobbiamo capire se noi siamo effettivamente in grado di risvegliarlo questo patrimonio o se ci accontentiamo di dire che le Dolomiti sono patrimonio dell'umanità senza poi entrare all'interno del territorio a vedere cosa possiamo davvero fare con le nostre armi, la cultura, la sensibilità e l'intelligenza per riattivare questi siti a favore di tutti. Grazie.